Senti, abbiamo visto questa cravatta Juventus, stemperiamo un po' la tensione, come sta andando questa Juve che è tornata a vincere e ti sta piacendo? Beh, credo che la Juve debba fare delle decisioni importanti per il suo futuro, le debba prendere in fretta perché quest'anno ha fatto i miracoli, era dopata. I punti che vedete da Juventus sono inimmaginabili guardando i giocatori che ha, quindi credo che bisogna fare un pensiero importante per il futuro, non aspetta a me a raccontarlo, ma credo che sia importante trovare un vertice. Io sono convinto che la fatica della Juve si deriva dall'haver perso Marotta e il successo dell'Inter e Marotta e io penso sempre che siano i vertici a determinare il successo di un gruppo, ovunque. Quindi vedi il rinnovo di Allegri, come lo vedi? Per fortuna non aspetta a me. Però il dominio della Juve l'ha detto, la squadra è andata molto.